Ormai ci siamo dalla serata di domenica con l'inizio delle prove, Piazza Grande si prepara a questo Tour de Force giostrisco il 27 agosto, la giostra straordinaria per il giubileo della misericordia, il 4 settembre quella canonica prevista come seconda giostra dell'anno. Ecco che in Piazza Grande con alcuni gruppi di turisti che stanno visitando la piazza vedete che va avanti il lavoro di montaggio della tribuna, la tribuna che si trova sotto il palazzo di Fraternita e dunque quella che era stata una edizione della giostra criticata soprattutto dai commercianti della piazza perché queste transenne ovviamente soprattutto quando sarà allestita anche la seconda tribuna avvolgeranno la piazza per tanti giorni. I commercianti temono che questo possa penalizzare ovviamente le loro attività, ecco che si mischiano attività dunque di cantiere per costruzione della tribuna e gruppi di turisti che sono venuti a vedere una piazza grande che certo non è la solita piazza grande, quella diciamo intonza, quella che avrebbero visto magari in un periodo senza giostra, invece vedranno insomma una piazza che per metà è avvolta dalla tribuna. Chiaramente questo è una manifestazione storica di Arezzo e quindi anche un modo per promuoverla visto che all'ingresso delle loggie vasari c'è uno schermo che proprio proietta le immagini della giosta quindi è un modo questo per chi arriva ad Arezzo in questi giorni anche di conoscere questa manifestazione e magari perché no tornarci in futuro proprio per viverla. Come state vivendo i commercianti della piazza questa doppia edizione di cui tanto si è parlato? Questa doppia edizione come commercianti della piazza un pochettino ci dispiace che è stato tutto anticipato naturalmente il montaggio di una settimana proprio per quello che si è detto ora però bisogna dare anche delle riconoscenze alle persone che in questi tre o quattro anni hanno migliorato molto il montaggio e lo smontaggio delle tribune stesse e della lizza e in più devo dire che quest'anno proprio per quello che abbiamo detto delle tre giostre hanno ridotto un po' i giorni di montaggio e anche di sicuro lo smontaggio che a giugno l'hanno già fatto per cui per la piazza in sé per sé un po' dispiace avere anticipato di una settimana essendo entrati i lavori della settimana di ferragosto però bisogna pensare che la giosta è una bella cosa per la nostra città per cui va bene così. Grazie